Ciao a tutti ragazzi, buona vista alla vostra cattura radio della Pena Bonas, Pinto San Diego, Mosè, Spagnolo! Buonasera a tutti ragazzi, allegria! Io vado a vado a tutti, voglio vedere il calcio, lo sport più bello del mondo, ma oggi siamo qui per un altro motivo, dopo aver visto la Fiorentina sconfiggere il Parma, beh, dopo 2-2, 4-1 ai calci di vigore, 6-3 totale, e aver passato il turno, infrontare la vincente di l'Interbologna, adesso vedremo il calendario, questo sarà il calendario di Dicembre, pronti? Tom Cake variegato, ingredienti, 300 grammi di farina 0-0, 180 grammi di zucchero, 3 uova, 100 grammi di olio di semi, 100 grammi di latte intero, una bustina di lievito per dolci, 30 grammi di gocce di cioccolato e un pizzico di sale. Allora, adesso vediamo cosa vi chiede, in una ciotola versate gli ingredienti secchi, farina, zucchero, lievito e sale, poi aggiungete le uova e mescolate con la frusta, ora aggiungete uno alla volta gli ingredienti umidi, prima l'olio, poi il latte e l'estratto di vaniglia, mescolate con una frusta, versate gli ingredienti umidi nella ciotola con quelli secchi ed amalgamate con la frusta, impurrate e rinvarinate uno stampo da un cake grande e versate il composto, seguite sopra le gocce di cioccolato così non andranno sul fondo, sgaratele un po' con una forchetta in modo che non si attacchino insieme ma senza spingere troppo sul fondo, uocete a forno un giacalto a 180 gradi per circa 40-35 minuti, sfornate il pancake e lasciate raffreddare completamente, questo è quanto ragazzi. Adesso parleremo del cane Manu, Manu è stato trovato insieme alla sua sorellina Miele tra i rifiuti, il loro sguardo ha incontrato quello di due ciclisti che non li hanno ignorati e sono accorsi il loro aiuto, sono stati portati nel loro strarifugio dove hanno vissuto insieme un altro po' di tempo di essere adottati, Manu è stato il primo a salutarci, ha messo in valice la sua grande gioia e si è incamminata verso una nuova metà, ora vi è felice la sua nuova famiglia, grazie a Monica Gabriele e la loro famiglia per aver scelto ad adottare Manu, guardiamo come è cresciuto, guardate qui, il calendario, ok ragazzi, a presto, ci vediamo, la saluteremo con mia nonna, buona, buona la prima, buona la prima, buona la prima.